pasta zucchine filadelfia e pancetta si fa in 15 minuti ed è una delizia assoluta fatela con me iniziamo per prima cosa taglio la cipolla poi grattugio le zucchine dopo averle lavate asciugate e private delle estremità metto l'olio in padella aggiungo la cipolla e dopo un minuto metto le zucchine regolo di sale e faccio cuocere per 10-12 minuti a fiamma medio alta poi salo l'acqua metto a cuocere la pasta in una padellina metto la pancetta e la faccio cuocere a fiamma alta finché sarà brustolita quando le zucchine saranno pronte aggiungo il formaggio spalmabile mescolo aggiungendo un po di acqua di cottura della pasta trasferisco la pasta al dente e a fiamma spenta mescolo in modo da far amalgamare bene il tutto poi aggiungo la pancetta croccante ed eccola qui che bella è squisita